E riguardo a questo incontro ha parlato Paolo Lanzoni che è il responsabile delle pubbliche relazioni di Mercedes-Benz Italia. Vediamo cosa ci ha detto. Mercedes-Benz e Michelin condividono dei valori comuni, infatti le coperture, gli pneumatici sono l'anello di congiunzione fra l'autovettura e la strada. Sono molto importanti per la sicurezza in ogni condizione di utilizzo di strada e ovviamente anche per la riduzione dei consumi e delle emissioni. Un impegno comune che noi di Mercedes su classe A portiamo avanti, così come su tutta la gamma. L'attuale generazione di classe A riduce i consumi fino al 26% rispetto alla precedente generazione senza in alcun modo penalizzare le prestazioni da 109 a 211 CV, prezzi a partire da 22.900 euro. In questo modo ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, non cambiate canale, noi tra pochissimo ritorniamo con Motor News, con altre novità del mondo dei motori, con Land Rover e la consuerta impressione di guida, questa volta di una nuova versione della Renault Twingo. A tra poco!